musica 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 questi volti mi sono familiari un tempo li conoscevo forse anni fa erano sono la mia segna la mia famiglia sono venuto in questa terra maledetta per fare un lavoro Omega mi hanno chiesto costretto ad attivare questa macchina infernale ha causato cose orribili io ho causato cose orribili il gruppo Omega ha grandi piani siete qui per fermarli? vi aiuterò spegneremo insieme questa macchina infernale chiudete il passaggio sarà il primo passo rimedierò al danno che ho causato ma guarda un po' bella pensata sembra che questa cosa possa disattivare la macchina la disattivazione dell'acceneratore è priorità di a squadra d'assalto se vuole a farlo guadagnate tempo evitare esquecca A terra Molto di santo Sì, sì, sì. Anche un'estima. Anche un'estima. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Non ho bisogno di sentire altro. Raptor 1 in arrivo, squadra d'assalto. Andatevene da lì! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ben fatto, squadra d'assalto. Lo squarcio è chiuso, ma temo che il gruppo Omega abbia appena cominciato.